Amici, dopo tantissimo tempo torniamo nel server Hypixel, però non con le Bedwars, non con le Mordermister, voi direte con cosa, cioè con cosa torna, bensì con le Build Battle, non le ho mai portate sul mio canale, faccio schifo totale a buildare così alla veloce, proprio non sono capace, spero che di non far totalmente schifo, nel dubbio vi invito a lasciare un piaccio, commento, condividere il video, se non siete iscritti, signori, iscrivetevi al canale, c'è tanta roba, e iniziamo, farò schifo, farò schifo... Signori, perfetto, ci troviamo direttamente nella lobby del Build Battle, potrebbe come vi ho detto nella intro finire in tragedia, ma ho messo giusto in singolo? Player way, sì, mode solo, perfetto, nella 1.14, dicevo le Build Battle non le ho mai fatte in singolo, le ho fatte solo una volta in duo, ma tipo ci avrò giocato 20 minuti, e appunto non sono totalmente in grado, quindi la mia tattica è se non ho idea di come disegnare, userò l'ausilio di internet. Potreste dire stai barando? Sì, sto palesemente barando, però quando il gioco si fa duro, voi sapete come va a finire. Quindi un secondo ed iniziamo, e appunto devo scegliere tra Snail, non so cosa sia, la terra, fotografia, il parco e la campana. Ma cos'è Snail? Dai, credo sia Code... no, Code e Tail. Dai, devo pure cercare cos'è Snail. Lumaca! Cioè, io come la disegno una lumaca? Dai, ma dai, ma perché anche scegliere lumaca? Sto palesemente copiando da internet perché non ne ho idea, quindi facciamo una cosa del genere, alto 2, oh io spero che esca bene. Fatemi sapere che tecnica utilizzate voi perché io copio totalmente, spudoratamente da internet. Voi se lo sapete inventare al momento, cioè proprio GG totale, strabravi, però io non sono in grado. E qua andiamo a ricoprire il tutto, che poi ovviamente io appunto sto copiando, però non è assolutamente detto, anzi è molto probabile, che mi esca una schifezza totale. Cioè, ma tipo totale, totale. La parte più difficile è fare ovviamente il guscio perché dovremmo fare in teoria una rotellina e non ce la farò tipo mai nella vita? Ma tipo mai, mai, mai? Cioè, perché non è che mi dicono proprio quanti blocchi servano per farlo, quindi sto un po' improvvisando. Tec, 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 dai chiudi tutto, bravo master, l'hai fatto un blocco più avanti, vabbè, provvedo subito a fare, ok. Cioè, chi è che sceglie di disegnare una lumaca? Cioè, scrivetemi nei commenti chi sceglie di disegnare una lumaca, perché io onestamente non la sceglierei mai. Ora saliamo, sali, sali, chiudi, sali, chiudi, sali, chiudi, sali, chiudi. Cos'è sto skip? Vabbè, è un po' storto, ok? Concordiamo tutti che è un po' storto. E ora in teoria dovrei fare il corpo, dovrei fare, signori, dovrei fare il corpo. Allora, credo, mi sia uscito una stupidata. Ora andiamo a chiudere gli ultimi cosi qua. È una lumaca, uh, le antenne, è vero, è vero, è vero. Allora, facciamo tipo l'antenna così, tec, 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 ci può stare? Lo chiudiamo proprio qui? Minchia, è una lumaca proprio con l'unicor, vabbè, lasciamo perdere, perché ha fatto un po' schifo. In realtà, se spaccassi qua, però quanto tempo ho? 15 secondi, no, non ce la faccio. Va bene, va bene, va bene, va bene, dai. Fa schifo, ma non totalmente, vabbè, fa totalmente schifo, ok? Fa totalmente schifo. Fatemi vedere questa. Poop. Signori, io voto in modo onesto, eh, però, super poop. Ah, non ho messo il terreno. Dannazione. Vabbè, fatemi vedere questa. Eh, no, questa non è super, ma è da poop. Poi, io, quando è giusto, è giusto, però dai, questa è qui. Cioè, signori, non sto dicendo che la mia sia bella, ma non potete dirmi che questa è una lumaca. Cioè, o meglio, questa sì, è una lumaca, dopo che ha subito migliaia di raggi gamma dalle radiazioni. Questa, ecco, questa è già più carina, ti faccio... Ok, ok. Questa è una rana, chiaramente, quindi super poop. Non abbiamo assolutamente centrato l'obiettivo, è tipo un girino rana inquietante. Oh, la mia! Sì, signori, la mia. Mi voto leggendari. Ah, non posso votarmi? Ok, dai, vota... Signori, cacciatemi i leggendari. Per forza. Dai, è carina. È molto carina. Qua cosa... Che cosa c'è? Cosa sto... Oddio, molto cicciona la tua lumaca. Dai, ok, ok. Questa fa schif... Fio, questo è un megarospo! No, è il megarospo di quelli... I megarospi che tutti pensano che abbiano una voce strana. Ecco, questo è il classico megarospo. E questo visto così... Oddio, da questa prospettiva sembra un megacervo. Tutto mega. Tutto gigante mega. Super poop. No, vabbè, oddio, no, non volevo fare super poop. Facciamo poop. Dov'è la lumaca? Siamo arrivati settimi e ha vinto questa. Sì... Oh, però, settimi su undici. Che schifo. Mi sa che vince la fattoria. Sì, ok. Vabbè, ovviamente in una fattoria ci sono le fence. Poi ci sono ovviamente i vari animali. Questi qui li togliamo. Ovviamente dovremmo fare anche le varie strutture, però per il momento non dico che non c'è tempo, perché il tempo in realtà c'è, però non sarei in grado di farla alla veloce. Quindi io direi di fare prima di tutto i vari recinti. Tec, tec, tec. Facciamo una cosa del genere. E dentro ci buttiamo... Oh, belli i maialini da gara. Belli, ok, ho scelto belli questi maialini. Qua ci facciamo i maialini. Qua ci facciamo queste mucchettine. Sto mettendo tutto veloce. Mi sta uscendo molto male. Vabbè che posso toglierli, però diciamo che mi fanno perdere tempo. Qua ci mettiamo le mucche da guerra. Cioè guardate che cattivi, guardate tutti cattivissimi. E qua in parte ovviamente ci mettiamo... Cosa c'è in una fattoria? I polli? Ci mettiamo i polli. Ora dobbiamo andare a prenderli. Perfetto, quindi tre polli. Oh, questa qui già mi sa di fattoria. Poi... Ah, sapete cosa? I villager. Eh? I villager spawn egg. Ci mettiamo vari villager che sono tipo tutti a controllare i vari cosi. Oh, ok, perfetto. Ho messo il terreno buono. Il terreno buono. E... Eh, in teoria dovrei fare anche il coso per i cavalli. Tipo può essere una cosa del genere. Tipo quello che ho fatto nella mia vanilla. Volendo lo possiamo ricreare. Però lì ci ho messo un'ora. Qua ci dovrò mettere meno di due minuti. Quindi la vedo un po' dura. Tipo possiamo fare... Allora, che arriva tutto qui. Comunque questa è la mia fattoria. Ia iao. Fa un po' schifo, un po' pena. Guardate quei polli quanto si agitano. Perché dicono... Oh mio Dio, non vinceremo mai. Vabbè, dai. Ho fatto... Non il possibile. Però... Ecco la farm. Non l'ho fatta. Eh, ti metto un ok, dai. Potremmo far meglio. Anch'io potevo far meglio. Però solo una farm in cinque minuti. Mmm, vabbè. Samsung Birch ci ha fatto... Oh, questo carino. Beh, ecco questi. Come si chiamano? Boh, vabbè. Questo ti metto good, dai. Sei stato bravo. Oddio, ma sapete che mi sa che farm intendevano questo? Potrei aver sbagliato completamente, eh. Oh, questo carino. Tutto recintato. Dai, questo good. Sì, ma io non vincerò mai. Cioè, credo che il giorno in cui vincerò una build battle sarà tipo il giorno leggendario. Qua dentro potevi metterci qualche torcia. Però dai, ti ho messo un bel good. Perché se lo merita... Questo fa schifo. Cioè, ti metto poop per evitare altro. Perché non mi piace assolutamente. Ma se io tipo esco... No, guardate... Oddio. Questo... No. Allora, questo è ingegnoso. Dai, ti metto good. Ci sta. Belle anche i particellari che non li so mettere. Non li ho mai messi. Signori. Oh, votatemi leggendario, eh. Guardate cosa ho in mano io. Fatelo anche voi. No, vedo dei super poop. Signore, vedo dei super poop. Oh, quello good. Bravissimo. No, è ok. Boh, non lo so. Non avremmo mai vinto nella vita. Super poop. E ha vinto Rodrigo. Eh, ci sta. Ci sta. Oh, noi quinti. Sì. Ci sta, quinti. Ci sta. Questo era il migliore insieme al trattore. Oh, 5 su 12 non è assolutamente male, eh. 5 su 12. Quindi, prima 7. Ora 5. Adesso facciamo l'ultima. E arriviamo terzi. Cioè, per forza arriviamo terzi, signori. Per forza. Un naso. Un naso. Un naso. Butta via sto schifo. Butta via tutto. Allora, come lo facciamo? Un naso. Come lo facciamo? Vedete che ce l'ha così il naso? Mmm. Potremmo fargli la faccia di... E che colore è quello? Brown. Sto cercando, appunto, di riprodurre la faccia del villager. Però, a parte il fatto che la vedo dura e che qui è pure divisa. Non so perché mai divisa. La vedo molto dura. Allora, green. Perfetto. Datemi questo. Totalmente a caso. E devo mettere gli occhi tipo qua e qua. Giusto? Giusto? Più o meno. E in parte ci devo mettere il white. Sta uscendo uno schifo totale. Però, per improvvisare, ci può anche stare. Credo. No, fa schifo. Vabbè, fa totalmente schifo. Poi, sopra ci devo mettere il black. Datemi il black. E poi, qua, appunto, ci faccio il naso. Tipo così. Però sto... Cioè, vedete che... Vabbè, dai, lo facciamo di tre blocchi. Tipo il naso dei villager, che è la cosa più strana del mondo, fa una cosa del genere. Dai, ci può stare. Ci può stare, signori. E qua ci mettiamo il red. Però il red scuro. Tipo questo. Ci può stare. Non saprei. Non saprei proprio. Ma io direi che non fa totalmente schifo. Cioè, fa schifo. Però non totalmente. Eh, così, dai. Sì, dai, ci può stare. Signori, credo che ci possa... Credo, credo, che sia la cosa più bella che io abbia mai fatto. E quindi ce ne vuole. Cioè, strana come frase, eh. Quattro secondi, tre secondi. Dai, ci può stare. C'è pure il villager per far vedere. Oh, zì. Guarda che è uguale. Dai, fidatevi che è il mio il più bello. Fidatevi. Ne sono sicuro. Super poop. Totale. Questo fa schifo. Totale. Totale. Oh, bellissimo. Signori, bellissimo. Fatemi vedere cosa avete in mano. Bravi. 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 No, come super poop. Guarda quello lì con super poop. No, che schifoso. Leggendario. Leggendario. Bello. No, è questo. Non è da epico, ma è da good. Ti voto un bel good. Eh, ha vinto lui. Ci sta. Ci sta. E siamo arrivati. Quarti. Va bene. 7, 5, 4. Ci sta, signori. Io salvo ed esco e me ne vado con un quarto posto proprio di lusso. Spero che queste build battle vi siano piaciute. Non ho mai fatto le build battle. L'ho improvvisato al momento e... Non male. Non bene. Non male. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Nel dubbio vi ringrazio per la visione. Vi do appuntamento domani. Alla solita ora, ovvero alle 2.40... No, non è vero. Alle 2.15. Perché ora in estate sto mettendo i video alle 2.15 con un nuovo video. Ciao. Quarto posto di poco. Vabbè.